Noi abbiamo già un pool di avvocati che sono assolutamente disponibili, l'abbiamo fatto sapere anche a Luca Traini, che sono disponibili alla difesa di Luca Traini e anche, questo è importantissimo, a tenere un occhio attento a quello che sta succedendo nell'altra inchiesta, quella legata all'omicidio di Pamela e a questa omissione incredibile sulla mafia nigeriana.